Buongiorno a tutti e ben ritrovati, nuovo appuntamento con Focus Periferie, il primo appuntamento di questa stagione, insomma il mercoledì è Focus Periferie ed è Focus Periferie, quando qui con noi c'è Walter Cherubini, buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati, questa che è la prima di questa nuova stagione 2024-2025, ma è anche la 186esima puntata, quindi abbiamo un pochettino di traiettoria dove appunto grazie all'intervento di significativi ospiti che operano fattivamente nella nostra città, cerchiamo di entrare nel merito di cosa sono queste periferie. E allora oggi chi è evoluto qui al nostro tavolo? Allora oggi abbiamo Mario Donadio. Buongiorno Mario. Buongiorno, diciamo così, ha una, non esperienza, ma una pratica, diciamo così, policentrica, perché il tema del policentrismo sarà significativo. Lui ha il suo policentrismo dove, primo, diciamo che fa tante cose e quindi chi sa fare sa comandare, una volta si diceva. In secondo luogo ha tante relazioni e quindi è un cuore pulsante che tiene insieme le varie cose e quindi può sicuramente arricchire e dare significato a quella trasmissione di oggi. Altro che cuore qua, quei pulsi in periferia, ma è Mario da un bel po', no? Non ti ho mai fatto una domanda, a quale è che è iniziata tutta questa tua passione per i luoghi che vivevi? Beh, per i luoghi che vivevo tanti anni fa perché mi occupavo della storia di Milano e quindi scoprivo un po' i luoghi nascosti, archiviavo tutto ciò che era materiale storico, eccetera. Poi sono passato al tema della socialità da una quindicennia d'anni circa, la passione di scoprire quelle che erano le realtà associative, eccetera. Se dovessi fare, diciamo, un po' un riassunto delle attività che in questi anni hai portato, attività sociali, sul territorio, quali sono quelle che dobbiamo per forza ricordare? Ma guarda, io penso che la cosa più appassionante è proprio le relazioni. Le relazioni ti aprono in ogni settore la strada, per cui il fatto di riuscire a costruire da delle relazioni un'aggregazione è stata poi la cosa che mi ha appassionato di più. Valter, insomma, quello che porta Mario nelle periferie è un po' quello che ci si augura di avere in qualsiasi zona della città, a prescindere da dove si disloca giocraficamente, poi, no? Sì, c'è questo gioco che abbiamo trovato, perché diceva Mario, ero appassionato un po' dalle vicende storiche, conoscenze, eccetera, eccetera. Allora, il primo dato, abbiamo fatto nel 2023 il centenario degli antichi comuni milanesi. Il centenario degli antichi comuni milanesi che cosa focalizzava, o avrebbe dovuto focalizzare? Che nel 1923 c'è stato un cambiamento radicale della città di Milano, che era arrivata con l'aggregazione del comune di Corpi Santi a 76 km2, dai 9 km2 precedenti, 1873, con l'allora sindaco Bellinzaghi, passa a 181 km2. Allora, da 76 a 181, capite che cambia completamente la città, cambia completamente la città come territorio, ma anche come struttura amministrativa. Una volta che cosa c'erano? Fino al 1923 c'era il sindaco del comune di Tittareno Uniti, piuttosto che il sindaco di Lambrate, ed era delegato dalla comunità a tenere sott'occhio quel territorio lì. Quindi quella era la sua priorità. Io, soprattutto, posso dire, Mario Donadio sindaco, ce la vedevo ancora in uno di quei comuni, no? Quello che fa, spesso mettere, è un po' da sindaco, no? Questo qui lo vediamo, perché è importante capire anche quali sono le logiche, perché bisogna entrare poi nei meccanismi, perché il lavoro del sindaco è un lavoro duro, piuttosto duro e molto complicato, soprattutto in una metropoli come Milano. Allora, se tu non hai una struttura organizzativa, che non è che sono i tuoi collaboratori, ma una struttura collaborativa, proprio, diciamo così, il nocciolo duro, è chiaro che hai delle difficoltà micidiali. Quindi, dicevamo prima, Milano, quel gioco lì, un gioco del 1987, aiuta proprio a conoscere Milano, perché ci siamo accorti, facendo, io ho partecipato a un po' più di 40 conferenze in biblioteche, associazioni, scuole, municipi, eccetera, di che cos'è che ci siamo accorti? Anzi, abbiamo avuto la conferma, che i milanesi non conoscono Milano. È chiaro che se i milanesi non conoscono Milano, poi come fanno a prendersene cura di Milano? Questo è un punto fondamentale, per quello questo gioco qui, che è molto, per certi aspetti, banale, ma ti aiuta a conoscere la città. Noi sappiamo che c'è, mi hanno insegnato, adesso sembra che alle elementari non insegnino più la geografia. Io ho imparato che c'erano due affluenti che mi sono rimasti abbastanza impressi, del Po, la Dora Baltea e la Dora Riparia. Ma chi è che mi ha spiegato del Seveso, dell'Ambro, del Nirone, dell'Olona? Cioè, tutte cose che oggi noi conosciamo perché esondano. Ecco, allora, è chiaro che se uno non ha già una preparazione che viene dalla scuola, e qui c'è un vuoto didattico enorme, perché Milano non viene insegnata a scuola. È chiaro che se non la conoscono quelli che sono, tra virgolette, milanesi, autoctoni, figuriamoci gli oltre 300.000 residenti stranieri che ha Milano. Allora, questo qui è uno dei punti fondamentali, la non conoscenza. Infatti, le periferie non sono il disagio, il degrado, ma sono la dimenticanza. E quindi noi non sappiamo nemmeno che c'è la Certosa di Milano in Garegnano, che è uno dei monumenti più significativi di Milano, piuttosto che Chiaravalle milanese, che adesso cercheranno di fare riconoscere come patrimonio dell'UNESCO, e tante altre cose. Un patrimonio dell'UNESCO in uno stadio attaccato di fianco, magari. Ma chissà, chissà, se invece il patrimonio dell'UNESCO salverà dallo stadio, chissà. Abbiamo uno stadio bello, bello pacciotto, ma va che bello stadio, è lì coi dali. Su questa cosa la conoscenza comunque è fondamentale quello che dici, perché davvero, io immagino questo gioco qua, che stiamo guardando qua, nel 1887, dentro ci sono un miliaretto di domande, non so veramente. Fate conto che questo è solo un pacchetto del trasporti tipografia e topografia, scusate, come categoria. Sono cinque domande a carta, ma poi c'è, ad esempio, quest'altro che è spettacolo, cioè ce ne sono tanti. Ma ci sono delle domande che veramente ti portano a doverla conoscere la città. Ad esempio, ora faccio adesso a voi, vediamo chi dei due mi sa rispondere. Quando è stato inaugurato il tratto Cadorna-Porta Genova della linea 2? Nell'81, nell'83 o nell'84? Mario? Non la sai, la sai? L'84. Ti dice l'84? L'81. L'81, bene, sono dei due vinti perché è l'83 invece. Perfetto, ok. Era l'83. Era l'83. Ma poi anche domande molto più difficili, mi viene da dire, ancora di questa. Cioè, in quale mese d'anno fu organizzato all'arena il tributo a Demetrio Stratos? Cioè, qui non potevi giocare se non la conoscevi la città, c'è poco da fare. Per la Crona che era il giugno del 79. Vabbè, non penso che nessuno di voi... Però effettivamente questa città... Non l'ho studiato la sufficienza. Però la città l'idea davvero di come, anche solo per fare un gioco, diciamo, e quel solo lo dico tra tante virgolette, bisognava per forza conoscere la città. Dentro nel gioco c'è la mappa di ATM per conoscere la città, con i trasporti, con l'idea, la progettazione della linea gialla, in questo caso, ad esempio, perché era solo nel 91 poi. Adesso cos'è che ci porta... Ma adesso... Perché dobbiamo conoscere la città? Allora, potrebbe... Possiamo anche più giocare. Poi lasciamo la parola a Mario per tutta una serie di cose piuttosto interessanti che vanno anche sul di spiegare quella che è la realtà cittadina. Noi abbiamo una forza eccezionale che sta nelle nostre università e accademie che sono frequentate da 220.000 studenti. Di questi anche circa 70.000 fuori sede. E questo qui è un altro aspetto. Allora, ci sono le facoltà di design, comunicazione, eccetera. Ecco, potrebbe essere un tema d'esame la costruzione di, tra virgolette, un gioco di conoscenza di Milano. Ah, bello. Per cui, aggiornato al 2024, in prospettiva al 2025... Perché esistono dei giochi, c'è Gran Milano, è un bellissimo gioco, divertentissimo, però è simile al Monopoli, cioè un po' più... Ovviamente, forse anche perché se no nessuno potrebbe giocare, mi viene da dire. Ci sono delle strumentazioni che possono essere utili, ma nella didattica sul campo. Cioè, il tema non è quello di fare delle altre cose, è mettere al servizio della città la cosiddetta terza missione dell'università, mettersi al servizio di una comunità e quindi operativamente. Ci sono delle situazioni più uniche che rare di messe in servizio strutturale, pensiamo agli off-campus del Politecnico, in particolare a San Siro, ma poco altro. Ecco, dove ci sono degli spunti. Deve diventare un elemento normale di didattica sul campo, ma questo non solamente delle università, ma anche di tutto il regime scolastico. È chiaro che se noi alle elementari non insegniamo qualcosina su Milano, è già partiamo con il piede sbagliato. Poi figuriamoci, quando uno arriva all'università, che arriva fuori sede, anche chi abita normalmente a Milano, non riesce a fargli conoscere a Milano, se non che cosa? Se non il Duomo, il Castello, il Cenacolo Vinciano, lo stadio, perché va dove è partita. E per i più, diciamo così, sportivi, lo stadio. Questo qui è un pochettino il tema di carattere generale. E questo, ritornando al centenario, è proprio il tema di ma chi si prende cura della complessità territoriale che può avere un nostro municipio, che dove vivono 190-150 mila persone, che sono esattamente la popolazione delle seconde città e terze città, che sono Brescia, Monza e Bergamo. Questo è il tema e ci sono i presidenti di municipio che vivono un'incompiuta ormai da 50 anni, oltre 50 anni, quindi il centramento è mancato. Mario, tu la città invece la conosci bene, ma continui a conoscere e continui a stupirti, da quanto ho capito. A stupirti anche, cioè continui a conoscerla ogni giorno che passa. Assolutamente sì, io parlavo prima di relazioni, perché io ho cominciato a scoprire la città grazie al lavoro. Abitavo fuori Milano, abitavo a Cinisello, e per lavoro facevo il venditore, e mi muovevo in tutte le direzioni della città. Il venditore porta a porta. E la cosa bellissima di Milano, di allora, di quando l'ho conosciuta, era scoprire l'identità, ma anche delle singole vie, perché anche le singole vie hanno una propria identità, una propria storia, eccetera. E' vero che oggi la città si è evoluta, si è cambiata, a volte si è appiattita, però, come diceva Walter, sarebbe molto bello che nelle scuole si insegnasse anche l'evoluzione della città. Per esempio, noi abitiamo in un quartiere vicino via Montegani, che era il quartiere noto, il quartiere Stadera, dove fu uno dei primi in cui arrivò l'immigrazione ai tempi. Poi l'immigrazione italiana è diventata immigrazione straniera. Ecco, fra l'altro si vive un'atmosfera di integrazione, lasciatemela dire spontanea, senza che vi siano delle leggi, perché la gente abituata negli anni nel quartiere a vivere e a intrecciarsi. Social street anteliteram. Esatto. Non so io un'etichetta per definire questa aggregazione. Infatti, infatti. Ecco, tutte queste cose. Sarebbe bello anche insegnarle alle scuole, perché poi i problemi che oggi ci sono delle città nascono proprio da quello che c'è sul territorio. Però io vi faccio una domanda. Nel senso, qua continuiamo noi, la nostra trasmissione si chiama Focus Periferie, il nostro speciale è Focus Periferie. Continuiamo a parlare di periferie e tutto, però ultimamente sembra che dire periferie è come bestemmiare, dire una parolaccia. Tutti corrono al dire non esiste, non si può dire periferie, dobbiamo usare quartieri. Com'è sta storia? Vi siete accorti anche voi di questo? Devo, Rich, proprio oggi contraddirti da questo punto di vista. Meno male. Allora, sì, la periferia non esiste, c'era una, il domenicale, la lettura del Corriere della Sera, ha intervistato alcune persone e ha titolato La periferia non esiste. Ma il problema è che l'MIT di Boston quindi è vero che c'è chi nega l'esistenza? Allora, facendo cento c'è sempre chi estremizza, chi dice non c'è niente, chi dice c'è tutto, cioè poi è fantasia al potere, quindi ognuno dice la sua, rivederci, su quali basi storiche poi, anche concettuali. La stessa amministrazione comunale non usa più tanto la parola periferie, usa molto la parola quartieri adesso. Ma allora, quartieri è anche Brera. Eh, fatti, quello che dicevo io. Poi uno può dire che il broletto o Brera sono periferia, per carità, che è diverso da quello che può essere il degrado, perché noi possiamo trovare il degrado anche in centro, per carità, su questo. Però il tema, allora, è andare, dicevo, l'MIT di Boston ha conteggiato più di 200 utilizzi dell'accezione periferia, talvolta contraddittorie, diceva. E' chiaro che questo mare magno ci sono le periferie sociali, le periferie esistenziali, le periferie mondiali, eccetera. Noi su che cosa ci concentriamo? E su questo anche il tema delle periferie, come viene utilizzato normalmente. Ci concentriamo su un fenomeno urbano, una città, una metropoli, perché baranzate già di bollate, che abbia le periferie, è tra i chilometri quadrati abbastanza complicato. Ma che cos'è che caratterizza le periferie in generale? Ci sono due elementi che sono. Uno, la mancanza di identità. Perché se noi facciamo un ragionamento mondiale, ci sono queste migrazioni dalla campagna che vanno verso le città. Noi nel 2017 abbiamo avuto il salto, e cioè più del 50% della popolazione mondiale vive nelle città, mentre prima viveva nella campagna. Quindi, che cosa ci sono? Cosa sono le città? Sono spesso degli addensamenti, e quindi ci sono gli Islam, le barracopoli, tutto di più. Cioè, ci sono questi addensamenti, qual è l'identità di questi addensamenti? Esattamente nessuno. L'altro aspetto è la mancanza di un'amministrazione. Perché appunto si aggregano, si aggregano, l'amministrazione è quella che aveva una piccola città ipotesi, e poi tutto il resto si aggrega, ma non si articola. Ci sono questi due elementi. Però, però, infatti, questi due elementi a Milano io non li vedo. Allora, questi due elementi, ce li ha o non ce li ha a Milano? Allora, innanzitutto l'amministrazione. Abbiamo detto prima che nel 1923, il territorio che oggi chiamiamo periferia, ma non solamente noi, normalmente tutti quanti, c'è anche l'Agenzia delle Entrate, ha fatto una, diciamo così, cartografia della città, e ha individuato un centro storico, un centro che arriva sostanzialmente al Municipio 1, ci sono quattro semicentri, che arrivano fino alla circolazione del 90-91, e dopodiché ci sono quattro aree periferiche. Quindi, è l'unica che ha fatto questo tipo di distinzione, altri non ne ha fatto, ma normalmente ci si riconosce. Allora, che cos'è che è successo nel 1923? 1923 è che l'amministrazione di questi territori, Lambrate, Niguari, eccetera, è sparita, è stata cancellata. Allora, è periferia o non è periferia, dal punto di vista della periferia urbana? Certo che è periferia. Fino al 1923 era, aveva un'amministrazione, una comunità, delegava qualcuno ad avere una visione complessiva del territorio. Quindi, Valdi mi stia dicendo, dal punto di vista dell'amministrazione... Se noi, per esempio, come era in quel caso, invece leghiamo alla costruzione delle case popolari avvenuta negli anni 70, la concezione di periferia, ci dimentichiamo un pezzo sostanziale. Perché è quella dell'identità. E che è quella dell'amministrazione. Ah no, sì, ok, quella abbiamo capito che è un punto. E allora com'è che facciamo? Ecco, allora, per quello bisogna avere un quadro generale. Allora, periferia, noi, questa mattina, nella trasmissione, uno mattina, dove parlava del corviale, esattamente, c'è un ex poliziotto che ha messo in piedi il calcio sociale, bisognerebbe diffondersi su questo, ma lasciamo perdere, visto anche la situazione passata esplosiva che c'è ormai da anni, peraltro, sulle vicende dello stadio. Questo, cosa ha detto? Bisogna fare interventi concreti nelle periferie. Ma se gli interventi concreti, chi è che li deve fare? Li deve fare il presidente del municipio attuale che abbiamo, che è vicino al territorio, oppure aspettiamo che lo faccia il sindaco di Milano, dove la vicinanza ce l'ha con la scala? C'è proprio un problema strutturale, organizzativo, che è da approfondire. Bisogna passare da una visione che è utile, sociologico, politologica, ci sono gli andamenti sociali, fenomeni, eccetera, ha una visione e anche traduzione politico-amministrativa. Cioè, dato delle evidenze, diamo delle risposte. E quindi, il tema anche della burocrazia, come viene organizzata la burocrazia. Perché noi diciamo... Questo è chiarissimo, partecipiamo. Faccio una domanda però. La parte amministrativa abbiamo capito, la periferia, la parte amministrativa manca, c'era ed è stata tolta. Però, per quanto riguarda invece l'identità, cavolo, le nostre periferie hanno un'identità forte, no? Perché forse figlia appunto anche di quel momento, di quel periodo anche, no? Ma sicuramente, allora, a parte il tema parola periferie, a me piacerebbe che magari diventasse un trait d'union di tutto quello che è il periferico. Cioè, magari se tutti i vari municipi periferici si identificassero in questa parola periferie, che diventasse bella, non appunto sinonimo di degrado, sarebbe importante. Condivido pienamente che oggi con l'allargamento della città c'è stata sempre più una centralizzazione delle decisioni. Cioè, per assurdo, come diceva Walter, una volta esistevano dei comuni limitrofi che si auto-amministravano e oggi purtroppo l'amministrazione va sempre più verso il centro. Quando oggigiorno i municipi sono delle città, perché ci sono dei municipi a Milano che hanno un numero di abitanti superiore a quelli che sono dei comuni fuori città. Per cui, voglio dire, il problema fra le altre cose che oggi io noto è che io li chiamo poveri municipi molto spesso si trovano ad accollarsi un po' le polemiche del territorio perché diciamo i cittadini li identificano sempre di più nella soluzione di prossimità. Quando in realtà la soluzione di prossimità non sono loro ma le scelte vengono sempre operate dal centro. L'ufficio reclami diventa esatto e quindi vengono un po' sbattute in prima linea e anche questo secondo me andrebbe spiegato nelle scuole il come avviene l'amministrazione perché oggi le regole di un municipio le regole di una città chi decide le leggi chi fa chi e che cosa se voi lo chiedete a dei cittadini sono totalmente all'oscuro identificano nel sindaco piuttosto che nella tutta la soluzione del caso quando in realtà forse qualche cosa in più andrebbe fatto su questo tema. C'è gente che non sa la differenza tra giunta comunale e consigliere comunale pensa e municipi dove arrivano nell'ottica ho capito come funziona la città. Walter stiamo vedendo un virgolettato qui il tema tocca le competenze la formazione spesso partendo da un presupposto che cos'è che ci hai portato oggi proviamo un attimino a metterci nella logica della soluzione perché problemi sono dati dopodiché si fa la rincorsa dei problemi ma i problemi basta leggere la pagina delle lettere di qualsiasi quotidiano e abbiamo un elenco di cose eccetera allora mettiamoci sul versante delle soluzioni e anche di capire un po' quali sono come diceva Mario anche le problematiche amministrative che ci sono allora il bilancio del comune di Milano il bilancio del comune di Milano di spesa ordinaria fa indicativamente 3.700 milioni l'anno 3.700 milioni l'anno che è una cifra abbastanza sconosciuta generalmente allora sono tanti sono pochi sono 3.700 milioni ciascuno dei nove municipi della nostra città compreso l'uno che noi consideriamo sempre meno perché ci occupiamo di periferie ma anche lui fa parte di questo gruppo di nove municipi e anche di nove presidenti che ci lavorano e quant'altro perché dobbiamo pensare che poi ci sono anche le fatiche di chi si occupa della città istituzionalmente piuttosto che socialmente e che spesso vanno vanificate perché ci sono tutta una serie di regole e regolette che invece di facilitare questo tipo di attività vengono tralaticiamente riportate da regole di altra natura e poi applicate lì perché per affrontare il tema delle periferie bisogna guardare dai confini della città dalla periferia se tu continui a guardarla dal centro si arriverai alla darsena un pochettino di lama dopo non riesce umanamente ad andare quindi devi avere un approccio strutturale completamente diverso e che la città non si governa uno solo un uomo solo al comando si dice ecco non la governa un uomo solo al comando ma la governa una organizzazione fatta poi da uomini ma se mi mettono un bravissimo pilota su una Ferrari scadente non vincerà mai il Gran Premio nello stesso tempo se mettono Walter Cherubini su una Ferrari buonissima no non vincerà mai il Gran Premio per cui ci vogliono strutture organizzative e anche persone allora che cosa dice l'attuale presidente di Fondazione Cariplo a zone dice che va bene tutto il resto tenuto conto che Fondazione Cariplo dispensa ogni anno nel 2023 qualcosa come 175 milioni di euro per la Lombardia per un po' più di un migliaio di progetti e anche un paio di province del Piemonte per cui ci sono tutta una serie di fondi ma cosa dice a zone dice che bisogna poi fare una premessa di cambiamento strutturale che amministrazione terzo settore imprenditoria eccetera eccetera devono parlarsi e parlarsi di più è meglio anche e quello si affina maggiormente allora da questo punto di vista c'è un percorso che è stato attivato ma alla luce di un'esperienza decennale da parte di una serie di organizzazioni cittadine che vanno dalla ConfCommercio Consulta Periferia in Milano Coordinamento Comitati Milanesi CSI insomma ce ne sono varie che hanno diciamo così un'organizzazione centrale ma che sono disseminati sul territorio ecco sono ospitati e partecipati dalla presidenza del Consiglio Comunale di Milano quindi anche con l'istituzione ecco qual è il tema è il tavolo periferia Milano che ha messo in piedi il percorso periferia policentrica proprio allora la zona dice bisogna parlarsi bene quello lì è un ambito con tutta una serie di difficoltà che però ha retto per dieci anni dove si continua a percepire che è importante condividere le cose non per risolvere i propri problemi ma per cercare di dare una soluzione al tema delle periferie ecco questo percorso periferia policentrica ha avuto un paio di incontri mettendo a fattor comune delle iniziative che tra l'altro noi abbiamo anche presentato qui nella prima della pausa estiva ecco questo qui è la modalità a zona dice bisogna far così bene noi lo stiamo facendo possiamo anche cercare di aiutarci in questo percorso che avrà un dispiegamento sul territorio perché la logica è quella di connettere un diciamo così connessione appunto centrale ma con una operatività sul territorio mettendoli insieme altrimenti si va sempre spaiati e si continuerà a essere spaiati e dimenticati bene siamo arrivati alla fine del nostro tempo Mario cosa c'hai in mente dai so che hai qualcosa in mente sicuramente no su questo tema più che in mente è una riflessione a me piacerebbe veramente tantissimo che si promuovesse sempre più la presenza delle scuole sul territorio anche decentrato una volta c'era una carissima amica design Sara Ricciardi che lei insegna al Napa e promosse la social design ovvero l'insegnamento presso le associazioni di periferia andò in Oklahoma andò in queste realtà a insegnare agli studenti proprio perché faceva dell'insegnamento ma nello stesso tempo le portava in comunicazione con delle realtà esistenti che potevano dare agli studenti anche un messaggio di cosa esisteva fuori un po' più lontano dalla città che non sarebbe male visto che voglio dire le scuole hanno questa grande risorsa i giovani io credo tantissimo nei giovani sicuramente potrebbero essere una buona soluzione ottima idea grazie Mario siamo in chiusura però hai da darci un appuntamento anche tu giusto? certamente allora ci dispieghiamo concretamente le periferie che cosa sono? sono un'articolazione di 166 toponimi diversi ecco quindi c'è gloria per tutti e dobbiamo dare cittadinanza a tutti cosa stiamo facendo in questi cinque anni grazie anche alla disponibilità di 48 realtà locali ogni terzo fine settimana del mese ci sono le giornate periferie Artme periferie Artme dove facciamo conoscere i territori attraverso il legame con i loro rispettivi beni artistici architettonici paesaggistici o museali allora prossimo 18-20 sul sito periferieartme.it oppure anche sul sito c'è il collegamento di periferiemilano.com potete andare a vedere gli appuntamenti fino adesso abbiamo messo in cantiere grazie alla disponibilità territoriale in questi sopralluoghi accompagnati perché andiamo a vedere belle cose ma anche strutture decrepite che sarebbero invece da valorizzare e conoscere come l'antico borgo di Assiano comune fino al 1849 che nessuno conosce i milanesi non conoscono assolutamente le 4.000 persone che ho incontrato appunto nelle giornate nelle centenarie degli antichi comuni Assiano è uno sconosciuto eppure parte patrimonio anche pubblico tra virgolette ecco allora ci sono le giornate periferie a noi da venerdì 18 a domenica 20 dove si potranno vedere varie cose ma soprattutto conoscere quel territorio in particolare mi piace anche ricordare il cinquantesimo di una realtà che è dai nostri quartieri il giornale dai nostri quartieri dell'est di Milano Lambrate e dintorni che festeggia i propri 50 anni con un concerto sabato 12 alle ore 21 presso la basilica dei Santi Nereo Achilleo che è in Viale Argonne e quindi fermata dalla metropolitana si può andare lì dove ha raccontato la città e tra l'altro la basilica dei Santi Nereo Achilleo è proprio anche uno dei luoghi dove uno può riconoscere il territorio dell'acqua bella attraverso questo monumento e poi tutto quello che di prezioso c'è dentro Walter grazie mille vi devo tagliare perché abbiamo sforato i nostri tempi ma tanto torniamo a mercoledì prossimo giusto Walter sempre qua sempre con il focus periferia grazie mille a Mario Donadio grazie a tutti voi grazie anche a tutti voi che ci avete seguito vi ringrazio alla prossima e a presto grazie a tutti